Francesco Benigno ha deciso di rompere il silenzio dopo l'ultima puntata di L'Isola dei Famosi, in cui è stato squalificato a seguito di una lite con Arthur Dainese. In una lunga diretta su Facebook, l'attore siciliano ha accusato la produzione del reality di aver tentato di corromperlo. Con la moglie Valentina Magazzù al suo fianco, Benigno ha dichiarato di aver ricevuto offerte di denaro per tacere sull'incidente. Mostrando alcuni documenti, ha svelato tre tentativi di corruzione, con offerte iniziali di 19.000, 24.000 e infine 30.000 euro. Tuttavia, ha respinto tutte le proposte, affermando di avere dignità e coraggio. Nella diretta, Benigno ha anche mostrato il video dell'incidente, confermando le sue versioni precedenti degli eventi. Ha sottolineato di essere stato provocato e spinto, senza aver reagito con violenza. Rivolgendosi direttamente a Vladimir Luxuria, ha sostenuto di essere stato ingiustamente dipinto come il cattivo della situazione. L'attore ha concluso ribadendo la sua integrità, e annunciando di avere prove concrete della sua verità, che intende portare alla luce. Il suo gesto di rifiutare la corruzione, e di parlare apertamente ha suscitato scalpore e interesse nel pubblico, mettendo ulteriormente in discussione l'integrità del programma televisivo.